Lo studio africani ha deciso di far parte di questa staffetta di donazioni per borse di studio da destinare a ragazzi che svilupperanno una tesi di laurea e di dottorato sul tema della diversity inclusion. In questi anni abbiamo avuto modo di toccare con mano anche in studio come la diversità e l'inclusione possano trasformare le vite. Crediamo fermamente che l'educazione sia uno degli strumenti più potenti per promuovere una società più equa e inclusiva. Questo impegno che ci siamo presi come studio è un altro passo per costruire un futuro dove nessuno venga lasciato indietro.